Se se ragazzi dai 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 sta per terminare la partita Malta Italia stiamo vincendo 2 a 0 ragazzi che vi posso dire contento per la vittoria tre punti che arriveranno in questo girone finalmente anche perché l'Inghilterra ha vinto anche con l'Ucraina e Ucraina se si voglia che comunque ce la fermano perché se vogliamo l'Ucraina è la terza squadra forte del girone la classifico così io Inghilterra Italia e Ucraina quindi va bene che l'Inghilterra va a 6 però ci ferma l'Ucraina ed è importante perché passano le prime due ragazzi una partita che ragazzi ve lo sto dire tranquillamente mi aspettavo una vittoria ecco era al minimo sindacale stasera contro Malta che poca cosa anche se poi alla fine inizialmente ci hanno messo in difficoltà nei primi 5 minuti un Mancini che rivoluziona l'Italia che la cambia completamente si sono visti comunque dei cambiamenti anche in campo ho visto l'Italia non brillante deve essere sincero però al minimo sindacale per fare due gol e porre a casa questa vittoria Retteghi ragazzi Retteghi secondo gol in nazionale dopo appunto due presenze quindi un gol a partita per il momento questo giocatore qui tra l'argentino sta facendo molto bene e molti possono dirmi eh ma contro il Malta eh ragazzi immobile a volte fa fatica anche a segnare contro le squadrette e non significa che immobile è scarso perché è davvero per immobile la Lazio è un grandissimo attaccante ma immobile nazionale non sa da fare non si trova ragazzi invece questo Retteghi segna segna c'è i gol in canna ed è molto importante per questa nazionale perché sappiamo benissimo che gli attaccanti hanno sempre fatto fatica sempre 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 però andiamo in ordine Malta che ragazzi ha avuto un'occasione importante subito con un contropiede eh Satariano Satariano ecco non Satariano dell'Empoli Satariano davanti a Donnarumma ehm diciamo al volo tira per fortuna la palla non è angolata ma centrale quindi Donnarumma riesce a fare comunque la sua parata e in quel calcio d'angolo c'è anche un colpo di testa del giocatore del Madro dove comunque Donnarumma la blocca però ecco in quei primi cinque minuti brutti bruttini entrati male approccio sbagliatissimo poi bene o male noi siamo superiori e siamo riusciti a trovare appunto Goko Retteghi su calcio d'angolo questo calcio d'angolo nasce da un tiro da fuori area di Romagnoli che ha fatto una buona partita a parte del portiere del Malta Retteghi un po' di testa fa un ottimo gol lasciato solo dai difensori del Malta però qui si smarca bene fa un ottimo gol di testa sul cross di Tonali e poi arriva anche il secondo gol ragazzi su questo cross dalla destra che arriva verso sinistra che nessuno riesce a prenderla c'è Emerson Palmini che sto fa il pallone e la rimette dentro c'è Pessina Pessina che tra due passi trova il tappo in vincente e l'Italia fa il gol del 2-0 Pessina anche un giocatore che secondo me nazionale fa spesso bene anche l'europeo scorso mi ricordo che non era assolutamente male e poi ragazzi abbiamo avuto anche l'occasione del 3-0 con Grifo questa impercussione di Lorenzo, palla al centro, Grifo rigore in movimento, tira forte ma centrale il potere della palla, poi la palla comunque va verso Grifo che prova a tirare ancora lì c'è un body check, c'è un contatto, un'ancata dei giocatori del Malta l'arbitro ha lasciato il core, ha preferito non sanzionare il calcio di rigore ci poteva stare come no, ha andato comunque a tre minuti di recupero e il primo tempo comunque a livello di occasioni finisce qui nel secondo tempo abbiamo gestito, abbiamo gestito senza creare troppo onestamente parlando non hanno creato neanche loro praticamente nulla se non un cross pericoloso dove poi alla fine questa palla non si riusciva a spazzare in una ruma su quel pallone di che lo vede un po' passare anche lui un po' in dubbio se è uscito con i pugni o no per il resto loro non hanno fatto nulla noi abbiamo avuto un'occasione importante con Scamacca che comunque entra bene al posto di Retegui questa rovesciata bella dove però il portiere fa una buona parata sempre Scamacca adesso poco fa ha avuto un'occasione con un tiro alto sopra la traversa per il resto poco è nulla si è un tiro di cristante, facile, parata del portiere e salviamo un alto corpo di testa di Retegui prima all'inizio del secondo tempo dove però la palla va alto sopra la traversa che però questo ragazzo lo stacco di testa ce l'ha non sarà altissimo però ha una buona elevazione e mette in difficoltà le difese avversarie e ripeto adesso Scamacca ha avuto un'occasione adesso dentro l'area di rigore ma la palla è nata alto sopra la traversa Scamacca è un altro giocatore interessante che secondo me ha bisogno di minutaggio e può far comoda questa Italia tre punti ragazzi, tre punti importanti ma è la prima, buona la seconda non buonissima perché onestamente parlando contro Malta ti aspetti questo anzi mi aspettavo un'Italia un po' più convincente non sono ancora convinto del tutto però abbiamo iniziato senza Giorginio e Verratti a centrocampo quindi un centrocampo più fisico contro Nali, Cristante è un po' meno qualitativo a livello di impostazione con Giorginio e Verratti però abbiamo visto anche contro l'Inghilterra che a volte pure loro ragazzi non sembra che in campo non ci siano proprio dai, tre punti, tre punti questo è il primo piccolo passo per la qualificazione agli europei partiti male adesso abbiamo vinto e adesso testa la prossima beh, la prossima oddio, ci sarà tra un bel po' di tempo però era importante vincere questa e si era vinta perché se non vinci questa poi ragazzi si complica poi passa giù del turno già alla seconda giornata ultima azione d'attacco con l'Italia con Grifo che si accentra a tiro di Grifo alto, 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 alto Grifo che ha avuto anche lui altre occasioni con tiri da fuori nel secondo tempo anche lì comunque sempre alti l'abito fischia adesso adesso ragazzi Malta 0 Italia 2 abbiamo vinto ragazzi tre punti comunque fondamentali ripeto, non in Italia bellissima però onestamente quello che contavano stasera erano i tre punti i tre punti e i tre punti sono arrivati questo è l'importante è l'importante ragazzi vedete che il video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate questi due argomenti fate sapere un po' voi cosa ti è piaciuto appunto di Malta Italia ti rinvole a vostro questi due argomenti che sono curioso di sapere anche la vostra e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è fondamentale non costa nulla e per voi è tanto il vostro supporto ragazzi basta un clic su iscriviti e siete iscriviti se costa nulla e mi supportano così non so fatevi ringrazio di cuore condividete il video con i vostri se non ci scrivete anche loro e attivate la campagna di notifiche così non perdete i miei prossimi video che usciranno ragazzi che tra un po' inizia la serie A quindi mi raccomando link in descrizione anche alla barra di tutti i channel e link in descrizione anche dal mio profilo Twitter qui abbiamo anche tutto bello bravo le tegui bravo